Buon pomeriggio a tutti e grazie al nostro ospite Massimo Antonio Doris. Massimo sei l'amministratore delegato di uno dei più importanti operatori nazionali nel mondo del private banking, del wealth management e la responsabilità che come tuo padre ha sempre ricordato da parte dei banchieri c'è nella funzione sociale che le banche svolgono e quindi nel supporto anche all'economia reale. Porta necessariamente a porci delle domande. Grazie, la vostra analisi e le vostre prospettive di come poter uscire da questa situazione di grande difficoltà, quali sono? Come da tutte le crisi si uscirà. Detto questo, se ne uscirà sicuramente i modi per uscirne sono molteplici. Io non vedo una soluzione che possa portare il nostro paese, non è solo il nostro paese, è il mondo fuori da questa crisi. Le soluzioni sono tante. La velocità è sicuramente qualcosa di importantissimo. Se non c'è fiducia nel futuro, gli imprenditori non investono, i consumatori non consumano e le due cose messe insieme significa declino. Quindi la velocità nel portare soluzioni aiuta a guadagnare tempo, ovviamente perché si fa un po' prima, ma si porta prima la fiducia sul futuro, che è appunto una parte fondamentale. Io faccio riferimento all'articolo, all'intervista di Draghi che ha fatto sul Financial Times qualche settimana fa. e la condivido in pieno, quindi dice inutile guardare via la burocrazia. Dobbiamo agire come in tempo di guerra. Anche in tempo di guerra le cose fatte non sono di nuovo una. I decreti per dare liquidità alle imprese, ci hanno messo un po' di tempo, hanno un po' troppo a burocrazia sicuramente, ma la liquidità sta arrivando. Poteva essere fatto meglio? Sì, ma magari anche peggio, quindi prendiamo quello che c'è intanto. Il dare denaro ai consumatori, fondamentale anche quello. Cosa serve ancora che non c'è? Dare denaro a fondo perduto a certi settori, perché se io penso al turismo, alla ristorazione, lì da liquidità, perfetto, ma bisogna anche dare denaro a fondo perduto. Quanto? Dipende da in quanto tempo si risolverà la questione sanitaria. Tutti noi possiamo dare un contributo enorme affinché la ripresa avvenga prima. Se ci comportiamo più responsabilmente ed evitiamo una ripresa del virus e dei contagi, avremo un impatto positivo sulla nostra economia, sui posti di lavoro, sui consumi, eccetera. Quindi il mio invito è tutti a stare molto attenti, perché anche questo contribuisce a una ripresa più veloce. Vedi possibile un'alleanza, un'ipotesi di alleanza tra i professionisti del wealth management, come siete voi, e i professionisti nella gestione dei processi di ristrutturazione e rilancio delle imprese? Come può esserci un'azione congiunta? Qualche anno fa sono partiti i peer, strumento che è fatto per portare liquidità alle imprese, soprattutto imprese italiane. Ovviamente i peer, essendo fatti da strumenti fondi aperti, che quindi quotano ogni giorno, quindi ogni giorno il cliente può dire ridammi i miei soldi. Quindi sottostanno a certe regole. Non possono investire in strumenti illiquidi. Sono stati bloccati per motivi che sappiamo, adesso hanno riaperto, ha riaperto purtroppo in un momento difficilissimo, ma io sono convinto della bontà di questi strumenti. Io personalmente ci investo. Però, come dicevo, sono strumenti che non possono investire in aziende non quotate. Ecco, creare dei peer nuovi che si affiancano, non sostituiscono questi, si affiancano fondi che possono investire anche in strumenti illiquidi e quindi meno adatti, se vogliamo, all'investitore piccolino, ritengo. Allora, come fare per attirare più denaro, più risparmio verso questo nuovo strumento? Che, ripeto, è molto più illiquido dell'altro. Devo avere la possibilità di avere ritorni più importanti nel tempo, avere la possibilità di investire di più, quindi alzare quei limiti, in questo caso, dei 30.000 euro annuali, dei 150.000 e poi anche degli ulteriori vantaggi fiscali. E questo è uno strumento, secondo me, molto adatto che può dare una grossa mano in questa direzione. Bene, con l'ospicio quindi di una nuova stagione, di un peer 4.0, un messaggio velocissimo per i risparmiatori. L'attuale fase, contingenza di emergenza, quale tipo di prospettiva può dare al risparmiatore medio, invece? Le crisi sono ognuna diversa dall'altra, nel senso che il motivo che la scatena è sempre diverso. Allora, dal punto di vista del risparmiatore, siccome è certo che la crisi si supererà, non sappiamo se i minimi dei mercati li abbiamo già visti o magari dopo questa ripresa torneranno giù e se ne faranno degli altri. Ma quello che è certo è che fra 4-5 anni le borse sanno molto più in alto di oggi. Allora, se io ho questa certezza e ho del denaro che non mi serve domani mattina, ma anche se lo investo in strumenti dove me lo posso sempre riportare a casa, è il momento per investire. Non comprando un titolo o due, ma investendo, diversificando attraverso i fondi o gli ETF in tutto il mondo. Dico una cosa banale, ma quando io vendo, dall'altra parte c'è qualcuno che compra. Perché se nessuno compra non si forma un prezzo. Quindi vuol dire che c'è chi vede una grande opportunità. E allora quello che accade è che tanti vendono, realizzando perdite, pochi intelligenti e lungimiranti comprano e tengono lì aspettando i momenti migliori e venderanno a chi poi per realizzare? A quelli che visto che le borse stanno andando bene iniziano a comprare. E purtroppo questo è quello che accade sempre. Ecco, in questo modo si possono portare a casa sicuramente dei grandissimi risultati. Faccio proprio un esempio dell'esperienza di mio padre di quando faceva il consulente finanziario negli anni 70. Lui vendeva fondi comuni in investimento che erano solo azionari e investivano solo nella borsa italiana. In quel periodo, se non vado errato, la borsa italiana è scesa per sette anni di fila o qualcosa del genere. Lui faceva investire i suoi clienti tramite i piani di accumulo, quindi dove ogni mese versavano. Aveva due tipologie di clienti. Coloro dai quali andava ogni mese a prendere l'assegno per versarlo e coloro i quali avevano firmato un bonifico permanente alla banca. Quindi ogni mese 100.000 lire qua. Lui andava a trovare tutti i clienti indistintamente, tutte e due le categorie, ogni mese per spiegare come stavano andando. Stavano perdendo, ovviamente. Ma diceva, vede, stiamo perdendo, ma lei sta investendo. Quindi con queste 100.000 lire invece di comprare 10 quote, adesso ne stiamo comprando 15. Quindi non dobbiamo tornare al valore iniziale per guadagnare, basta molto meno. E ogni mese così, però ogni mese andava giù. Ebbene, nessuno di coloro dai quali andava a ritirare l'assegno ha completato il piano di investimenti. Hanno smesso, hanno venduto, hanno realizzato perdite. Oltre il 90% di coloro che avevano il bonifico permanente ha completato il piano e sono diventati ricchi perché hanno continuato a comprare sempre durante la crisi. Poi, negli anni 80, lo sappiamo, la borsa ha avuto un'esplosione spaventosa, soprattutto quella italiana, ha fatto 10, 13 volte, una cosa del genere. Quindi ha fatto un sacco di soldi. Ora, il prodotto era lo stesso, il periodo era lo stesso, il consulente finanziario era lo stesso, il gestore del fondi, tutto uguale. Qual era l'unica differenza? In un caso il risparmiatore doveva ogni mese decidere di comprare, nell'altro caso aveva preso la decisione all'inizio, bonifico permanente. Poi dicevano, adesso basta, smetto, vado in banca e dico di smettere di versare. Non lo facevano. Scoprì le regole della finanza comportamentale negli anni 70, lo scoprì a sua pelle. Grazie ancora Massimo e a presto.